ciao questo nuovo video che solito che faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare che mi sono andato a vedere questo film che solito come come viene solito che si chiama sanati satanic hispanics che come firme del 2000 e delle 2023 che oltre magari a essere o prende mare genere anche thriller un po comedia che come paese come paese di produzione degli stati uniti e del messico che più che altro mai essendo ora parla più che altro è un po difficile magari da spiegare che più che altro parla che quando mai la la polizia fa eruzioni questa casa di el pa e il con una solo con questo un solo sopravvissuto che che questo sopravvissuto è conosciuto meglio come il viaggiatore e quando lo portano alla stazione per essere più che altro interrogato lì dice che le terre dove abitano sono piene di sono piene di di questa magia e gli racconta di di queste cose di queste specie come si dice cose che ha vissuto questi orrori che ha vissuto nel suo come si dice nel suo cammino essendo mai conosciuto più che altro come il viaggiatore questo qua gli racconta gli racconta le le cose che ha più che altro incontrato lui che che magari nel complesso come film come fatto come si svolge magari la trama magari nel come si dice la trama magari nel film magari ci può magari anche stare come come film che adesso essendo del come si dice anche se magari può risultare del 2003 però visto che logicamente l'anno di produzione è stato l'anno prima nel 2022 che adesso ho visto che come film lo hanno messo sulle solite piattaforme che se uno magari lo vuole recuperare lo lo può trovare magari anche anche gratis questo film che l'ho voluto dedicargli il video visto che l'hanno messo sulle solite piattaforme che come film dura anche un'ora e cinquanta quasi un'ora e cinquanta un'ora e quarantotto più o meno quei centodieci minuti come film che nel complesso come si svolgono si svolge magari la la trama ci può magari anche stare che essendo ci sono queste magari scene magari non e le solite scene magari da film però sicuramente magari a chi piace in questo genere sicuramente ma è un film da andarsi a recuperarsi solo nel 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 guardarselo che che io l'avevo già visto quando è riuscito al cinema e che adesso ho visto che lo hanno messo sulle solite piattaforme li volevo dedicare questo video e portarlo sul mio canale che come faccio di solito vi lascio tutte le informazioni sul film tra il cast degli attori che hanno partecipato video trailer e magari qualche altra informazione in più proprio sul film è tutto sotto il disco trovate tutto sotto in descrizione che non volevo mai più che altro mai di e particolare sul film per chi magari non l'ha ancora visto però da parte mia che mai questi tipo di film mi piacciono questo qua come film ho visto che nel complesso mi ha piaciuto che a parte che ho provato a vedere film peggiori di questo qua proprio questo questo qua di satanic hispanic ci poteva ci poteva magari anche stare come film che è fatto anche bene e niente è quello che potremmo magari dire su questo film amarello già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto che porto sul sul mio canale e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao